A quel tempo non immaginavo cosa potessero farci. E quanto questa guerra... ...mi avrebbe cambiata per sempre. Chi sono quelle? Un'unità di forze speciali. È una rivoluzione femminista, giusto? La nostra rivoluzione non ha genere. Per migliaia di anni le guerre sono state combattute sui corpi delle donne. Qui per una volta... ...ci temono. Fammi uccidere da un uomo. Non c'è nessun uomo qui. Parto con le mie compagne... ...per vendicare mio padre e trovare mio fratello. Come ti chiami? Zara. Io sono Laura e quella alla guida è la nostra cecchina americana. Il nostro capo è noto come la Leonessa di Kobaner. Bel colpo. La pagheranno per questo. Quando le donne si ribellano... ...vengono cancellate dalla storia, cancellate dalla società... ...e rimandate a casa... ...a fare le schiave. Ma non questa volta.